Ciao ragazzi, benvenuti nel video pre-Roma-Empoli che si può considerare ufficialmente la partita del ritorno di Claudio Ranieri dopo più di otto anni dall'ultima come allenatore della Roma, in quel lontano 2011 e in quel famoso Genoa-Roma 4-3. Faccio questo video per parlare un po' a carattere generale di tutto quello che riguarda questa partita, la conferenza del mister, la situazione degli infortunati, come verrà messa la squadra in campo e come considero i nostri avversari di questa partita. Partendo prima di tutto dalla conferenza di Ranieri, ve la dico in maniera molto sintetica ovviamente. Mi è piaciuta, mi è piaciuta veramente tanto perché ho visto un allenatore convinto, ho visto un allenatore che non è venuto tanto per farci un favore ma perché effettivamente vuole fare qualcosa di buono come allenatore della Roma, almeno fino alla fine di questa stagione. L'ho visto convinto non solo a livello di motivazioni perché quelle sono diciamo le classiche frasi che dicono un po' tutti anche se mi è piaciuto il fatto che vuole il supporto dei tifosi e vuole che i giocatori diano il mille per mille sul rettangolo di gioco ma mi è piaciuto anche perché l'ho visto con le idee chiare anche per quanto riguarda i giocatori da schierare. Due fra tutti Zagnolo e Schick. Ha parlato un po' di tutti dicendo che Dzeko è un giocatore importante, le classiche cose che si dicono ma parlando di Zagnolo ha specificato che per lui deve giocare al centro e non come esterno, ci potrebbe giocare solo in casi di emergenza però il suo ruolo principale è di centrocampista centrale e adesso gli ha dato un'identificazione che secondo me è molto importante. Poi parlando di Schick ha detto anche in questo caso una cosa importante, una cosa che Di Francesco non aveva mai detto perché Di Francesco ha sempre detto che potrebbero giocare insieme, si può mettere, comunque non ha mai dato un'impostazione fissa a Schick si può dire che in due anni non è mai riuscito a dargliela per colpe del giocatore ma anche per colpe sue fondamentalmente e Ranieri ha detto fin da subito che per lui Dzeko e Schick devono giocare insieme e secondo me diciamo che sta vedendo in Schick quello che era per lui Mirko Vucinic e cioè una seconda punta capace di dare una mano al centravanti che in quel momento era ovviamente Francesco Totti con abilità tecniche fuori dal comune e quindi io sono convinto che quando torneranno tutti i giocatori e in questo caso la sosta fa proprio bene perché arriverà dopo Spall Roma della prossima settimana secondo me vorrà proporre sicuramente l'attacco a due con Schick seconda punta e Dzeko attaccanti in questo modo ovviamente bisogna gestire bene i vari esterni bisogna capire un pochino come dovranno essere messi però secondo me è una cosa che si può risolvere soprattutto con l'impegno e il sacrificio di tutti quanti perché per forza di cose se faremo un 4-4-2 gli esterni dovranno fare molto di più su e giù e sacrificarsi di più in fase difensiva ma è una cosa che secondo me visto che sono grandi, grossi e vaccinati possono fare tranquillamente ci siamo capiti no? detto questo allora concludendo il discorso legato alla conferenza parliamo un pochino di questa partita è una partita complicata è una partita difficile contro un avversario che all'andata ci aveva messo veramente in difficoltà eravamo riusciti a vincere 2-0 ma giocando veramente male e vincendo solo grazie a un colpo di testa di Nzonzi e un gol nel finale di Dzeko con Caputo che sbagliò il rigore mandandola alle stelle quindi fumo anche abbastanza fortunati un avversario che arriva però nel momento giusto mi spiego meglio ogni partita è difficile con la Roma di quest'anno potresti giocare con la Juve come potresti giocare col Frosinone e non sai come potrà andare a finire il fatto però è questo a livello tecnico è una squadra secondo me alla portata anche di una Roma incerottata quindi a scelta preferisco molto meglio incontrare loro in questo momento piuttosto che l'avversario è veramente forte tecnicamente perché in questo momento i giocatori hanno bisogno di recuperare fiducia e contro avversari più forti tecnicamente è difficile che la riesci a recuperare almeno in questo momento quindi per me la Roma ha tutte le carte in regola per poter vincere questa partita anche con tutti gli infortunati del caso visto che ci manca praticamente un'intera formazione da titolare però bisognerà entrare in campo con la testa bisognerà entrare in campo con la testa capendo che non si può più sbagliare mi spiego meglio finché c'era di Francesco era facile dare la colpa a lui cioè i giocatori giocavano a cazzo tanto alla fine la gente dava molta persona dava una colpa all'allenatore e pochi ai giocatori adesso che l'allenatore è andato via il DS è andato via i preparatori sono andati via tutte nelle mani dei giocatori quindi o si riscattano in questo momento o vanno definitivamente mandati a fanculo non faccio i vari nomi perché tanti nomi sono sempre quelli Fazio, Pastore, Cristante anche se in parte perché Cristante ha fatto bene anche in questa prima parte di stagione tanti giocatori tanti giocatori che finora hanno fatto male e che devono far capire che effettivamente meritano di indossare la maglia gelorossa e non la stanno indossando solo per caso quindi mi aspetto da tutti quanti un riscatto poi se non succederà faremo le nostre dovute valutazioni per quanto riguarda l'aspetto della formazione ancora non si sa bene come entreremo in campo più che altro alla fine i giocatori sono quelli io ho ipotizzato, ve l'ho detto, un 4-4-2 con Florenzi e del Sharawi sulle fasce di centrocampo Karzdorp e Santon in difesa e davanti Perotti, trequartista comunque seconda punta dietro l'unica punta Patrick Schick sarebbe l'unico modo per avere una squadra equilibrata sia sulle fasce a livello di difesa e centrocampo e anche a livello offensivo però vedremo un po' se Ranieri in questi pochi allenamenti che ha fatto è riuscito a capire bene come mettere la squadra anche in base a tutti questi infortuni però non per vantarmi ma per me la formazione che ho fatto è quella che bisogna fare perché in difesa non vedo perché perché parlano di molti parlano di un 4-2-3-1 con Perotti trequartista sulle fasce Klaiver-Tesharawi e Florenzi Tersino però non ha senso perché comunque Florenzi per me deve stare un pochino più avanti cioè tu dietro devi mantenere Karzdorp che comunque avendo Florenzi davanti potrebbe completare una fascia di spinta e di difesa nel senso che comunque Florenzi potrebbe tornare bene e Karzdorp potrebbe spingere si potrebbero come posso dire alternare perché Florenzi ha già fatto il ruolo di Tersino in questo modo se vede che Karzdorp magari è andato parecchio avanti può mettersi al posto suo e rendere la fascia comunque un luogo sicuro ovviamente nei dovuti limiti quindi secondo me questa è la formazione più adeguata anche perché sull'altra fascia hai Kolorov che spinge in questo caso hai Santon e al centrocampo avresti Esharawi che comunque sa fare bene entrambe le fasi quindi questa è la formazione che io schiererei in campo l'ultimo appello che voglio fare però che diciamo è il fulcro di questo video ed è perché l'ho registrato visto che sulla formazione ne avevo già parlato cerchiamo di sostenere la squadra allora io so che è difficile in questo momento so che è molto difficile perché la squadra gioca male ha perso tutti gli obiettivi stagionali rischiamo addirittura di non andare neanche in Champions League e visto che ci andiamo da 4-5 anni di fila sarebbe un fallimento totale però come ha detto Ranieri tutto si può fare se c'è il supporto del pubblico non può bastare solo quello ovviamente però serve serve perché i giocatori devono capire in questo momento che il pubblico è dalla loro parte perché adesso tutti quanti ci stanno umiliando tutti quanti ci stanno prendendo in giro tutti quanti ci stanno distruggendo non dobbiamo non dobbiamo seppur con le motivazioni che ci sono cercare di distruggere anche noi questa squadra per quanto è difficile farlo cerchiamo di stargli vicino cerchiamo di supportarli io non dico tanto per la partita di stasera allo stadio perché visto che è lunedì sera forse piove contro le Empoli è facile aspettarsi un poco pubblico si parla di 31.000-32.000 persone era lecito aspettarselo però dico in generale anche dalla prossima partita cerchiamo di stare vicino alla squadra perché è la fase più importante della stagione abbiamo ancora un quarto posto da raggiungere se vinceremo questa sera saremo ancora meno due dal Milan e tutto può essere possibile con il derby la prossima giornata quindi cerchiamo di stare vicino dobbiamo assolutamente vincere questa e la partita con la SPAL per avere un minimo di speranza di raggiungere le milanesi se no sarà veramente tempo sprecato detto questo ragazzi allora un saluto dal vostro credetore Gioro Rosso ci vediamo questa sera per la recensione di Roma Empoli un saluto e sempre comunque forza Roma ciao ragazzi